Come vedete il titolo del mio talk è come scegliere un hosting per Wordpress, premesso che non sarà un talk tecnico, è un onore aprire le danze di questa sala che parla di contenuti, business marketing, e il cuore principale della mia presentazione sarà un elenco di quelle che per me sono le caratteristiche principali da tenere in considerazione quando state cercando un hosting dove ospitare il vostro sito fatto in Wordpress, ma non sarà principalmente un talk tecnico, quindi adatto a tutti i livelli per capirci. Questa è una breve scaletta di quello che andrò a presentarvi, quindi partiamo dalle presentazioni, chi sono e che cosa faccio nella vita, perché scegliere un hosting specifico, quali sono quelli che secondo me possono essere definiti i valori aggiunti di un buon hosting per Wordpress e poi lascerò spazio a voi per eventuali domande. L'obiettivo di questa presentazione è di darvi delle informazioni in più, di darvi quelle chicche che magari non avete mai tenuto in considerazione nel momento in cui dovevate scegliere o dovete scegliere un hosting per Wordpress, quindi mi piacerebbe vedere questa espressione sui vostri volti magari quando scoprite qualcosa che non avevate mai sentito, ma sono sicura che bene o male sarà un riassunto utile di cose che più o meno già sapete, che magari non avete mai approfondito. Partiamo quindi dalle presentazioni. Io mi chiamo appunto Alice Gallerani e mi occupo di web marketing e social media marketing per un'azienda che si chiama Coltengin. Coltengin è un'azienda 100% italiana, oggi giochiamo in casa perché abbiamo sede qua a Torino, e nasciamo nel 2002 con il nostro primo brand appunto di NS Hosting, che oggi si occupa principalmente di fornire prodotti di hosting specifici per Wordpress. Gli altri due brand che vedete della nostra azienda sono Joomla Host.it, che si dedica verticalmente ad un altro CMS che oggi però non posso nominare, e Colt Academy, quindi il nostro brand che si occupa di formazione, quindi offrire corsi di formazione, principalmente dedicati a Wordpress, a Joomla e all'ottimizzazione dei siti per la SEO. I nostri 14 anni di esperienza ci hanno portato a individuare quelle che per noi sono le caratteristiche principali da tenere in considerazione quando andate a scegliere un hosting specifico per un determinato CMS. Quindi perché scegliere un hosting specifico piuttosto che magari un hosting più generico? La totalità diciamo delle offerte commerciali che trovate sul mercato oggi offrono prodotti praticamente compatibili al 100% con tutti i CMS più utilizzati. Allora perché si parla di hosting specifico, quindi di un hosting creato apposto, ottimizzato ad esempio per il vostro sito in Wordpress? Sicuramente un hosting specifico vi fornisce delle impostazioni, delle ottimizzazioni e delle caratteristiche che fanno funzionare meglio il CMS che voi avete scelto, in questo caso appunto parliamo di Wordpress. Funzionare meglio per un sito significa andare più veloce, essere più accessibile e sicuramente essere un sito di successo. E oltretutto significa per voi risparmiare tempo per tutta una serie di impostazioni che trovate già configurate nel vostro hosting specifico e vi danno la possibilità anche di avere tutta una serie appunto di impostazioni che fanno funzionare meglio sia il core del vostro CMS, quindi la parte centrale del CMS, il codice principale, ma anche tutto ciò che sono i plugin, le estensioni e tutte le personalizzazioni che voi andate a fare sul vostro sito. Quindi non solo il CMS deve funzionare bene, ma devono ovviamente funzionare bene anche tutte le estensioni e i plugin e sappiamo benissimo che Wordpress ne ha un'infinità a disposizione di personalizzazioni, plugin ed estensioni e quindi il vostro hosting specifico vi garantisce di avere una compatibilità superiore per il vostro sito in Wordpress e tutte le personalizzazioni. Ma andiamo quindi a vedere quali sono queste caratteristiche principali da tenere in considerazione durante la vostra ricerca di un hosting per Wordpress. Partiamo dal basso, da quelle caratteristiche che tendenzialmente nessuno mostra mai nelle offerte commerciali, quelle cose che non vengono quasi mai dette, che sono un po' nascoste, ma che sono la base di un buon hosting per Wordpress, ovvero l'infrastruttura, quindi come sono fatti i server che ospitano il vostro sito in Wordpress. Quindi parliamo dell'hardware dei web server e dei server database. Quanti di voi hanno già sentito parlare della tecnologia SSD? Ok, bene. Allora una breve parentesi per chi appunto non ne ha mai sentito parlare. Si tratta di unità allo stato solido e diversamente da quanto avveniva con i dischi meccanici, la scrittura dei file su unità di memorizzazione allo stato solido è molto più veloce, arriva a essere più veloce anche del 400% di un disco tradizionale. E qui possiamo vedere un grafico che mostra semplicemente i tempi di reazione di un server tradizionale, che è la riga in nero, e di un server SSD, che è la riga in rosso. E parliamo di millisecondi, quindi come potete vedere il gap, la differenza è notevole. Quindi avere un hosting che vi garantisce un'infrastruttura totalmente SSD, garantisce molta più velocità al vostro sito. Un sito veloce è ovviamente un sito di successo. Quindi è sicuramente la prima caratteristica da tenere in considerazione nella scelta del vostro hosting. Passiamo invece alle configurazioni del vostro hosting. Allora, ritorno alla premessa iniziale. Non essendo un tecnico, quindi non essendo uno sviluppatore, io vi ho scritto esattamente la configurazione PHP che dovete ricercare quando ho cercato un hosting per WordPress, perché a memoria non me la sarei mai ricordata. Quindi l'ho scritta in modo che sia anche visibile a tutti. E praticamente, quando un hosting è specifico, ovviamente, deve rispondere a tutta una serie di prerequisiti che vengono richiesti dal software di partenza, quindi da WordPress in questo caso, ma non solo, come vi dicevo prima, dal core di WordPress, ma anche da tutte quelle che sono i plugin e le personalizzazioni che andrete a sviluppare. Questo tipo di configurazione PHP vi permette di evitare problemi qualora voi aveste attivi gli aggiornamenti automatici di WordPress. Quindi il vostro sito sarà sempre visibile, non avrà problemi di visibilità di alcune pagine, di alcune caratteristiche del vostro template, ad esempio, e delle vostre funzionalità che avete deciso di impostare, perché questo tipo di configurazione permette appunto un'ottimizzazione per il vostro sito in WordPress. Inoltre, una piccola nota, quindi dovete tenere in considerazione anche tutti gli hosting service provider che vi offrono una versione PHP sempre aggiornata all'ultima versione. Questo permette ovviamente anche un livello di sicurezza maggiore per il vostro sito, ma soprattutto deve essere una versione aggiornata e compatibile, quindi devono essere stati fatti dei test in modo che il vostro sito non abbia dei problemi di compatibilità con la nuova versione magari di PHP, perché questo potrebbe causare dei problemi di visibilità ai vostri contenuti, e quindi il vostro sito non sarebbe accessibile e potreste avere dei problemi se si tratta del vostro business, se si tratta di un sito di un vostro cliente. Quindi, da tenere in considerazione sempre quel tipo di configurazione e il fatto che sia una versione sempre aggiornata e soprattutto compatibile e testata con la vostra versione del CMS. Parlando ovviamente di accessibilità e sito di successo, ritorniamo al discorso velocità. Un sito deve aprirsi in fretta, un visitatore non deve attendere troppi secondi prima che si apra il contenuto di una pagina e in parte appunto la questione velocità viene risolta se viene offerta un'infrastruttura SSD che, come abbiamo detto prima, garantisce velocità di apertura al vostro sito. Ma ci sono altre due caratteristiche da tenere in considerazione che sono delle caratteristiche aggiuntive e sono la cache lato server. La memoria cache lato server ovviamente permette di memorizzare tutti quelli che sono i contenuti presenti sulle pagine del vostro sito, quindi i contenuti scritti, le immagini, i template, il CSS, tutto quello che compone una pagina web senza doverla richiedere tutte le volte al vostro sito. Ogni volta che un visitatore visita una pagina web del vostro sito fa delle richieste al sito che deve rispondere mostrando i contenuti. Questa richiesta viene fatta direttamente al sito porta via delle risorse al sito, quindi vengono consumate delle risorse e se più richieste vengono fatte contemporaneamente il sito potrebbe rallentare. La cache lato server permette di memorizzare tutti questi contenuti e di mostrarli molto più rapidamente senza doverli chiedere tutte le volte al sito e quindi questo velocizza ovviamente l'apertura di una pagina web. Un'altra caratteristica è la presenza di CDN, ovvero le content delivery network. Che cosa sono? Si tratta di una rete di server che permette di memorizzare appunto tutti i contenuti statici del vostro sito e mostrarli all'utente senza doverli chiedere tutte le volte al vostro hosting dove è ospitato il vostro sito. E questo è una cosa in più, un'aggiunta che permette di velocizzare ulteriormente l'apertura delle pagine. Un'altra caratteristica molto positiva delle CDN è il fatto che filtrano il traffico in entrata. Quindi tutto ciò che sono i fastidiosi spam che trovate nei commenti dei vostri blog in WordPress che magari non avete la possibilità di bloccare sempre, attraverso l'utilizzo di una CDN tutto il traffico in entrata in spam viene bloccato e quindi l'utilizzo di un sistema del genere vi garantisce anche un'ottimizzazione del vostro sito per quanto riguarda l'indicizzazione. Perché appunto tutto ciò che è spam viene penalizzato dai motori di ricerca e quindi tutti i contenuti spam che vengono bloccati sono ovviamente dei punti in più a vostro favore, a favore del vostro sito per quanto riguarda l'indicizzazione. Passiamo invece alle caratteristiche quelle che sicuramente guardate per prima quindi tutte le caratteristiche proprio fisiche di un hosting che sono appunto lo spazio disco, il traffico e la banda. Ora vi dirò il famoso segreto di Pulcinella, quello che in realtà magari conoscono tutti. Lo spazio disco illimitato in realtà in parte non esiste perché non esiste realmente e poi non vi serve assolutamente a nulla. Perché questo? Perché un sito in Wordpress in media occupa uno spazio di circa 300 mega quindi spazio disco illimitato o offerte commerciali che vi offrono e puntano solo ed esclusivamente sulla caratteristica di spazio disco illimitato in realtà per voi non è una caratteristica così fondamentale. Quello che invece dovete tenere in considerazione sono banda e traffico. In che cosa consistono? Il traffico ovviamente è tutta la totalità dei dati che vengono caricati e scaricati ogni volta che il vostro sito viene visitato o voi ovviamente caricate delle informazioni sul vostro sito. E la banda è la velocità con cui questi dati vengono caricati e scaricati. Quindi in questo caso banda e traffico devono essere realmente illimitati. Non che sia necessario che siano effettivamente del tutto illimitati perché appunto come dicevamo se un sito occupa 300 mega al massimo un visitatore che scarica tutte le informazioni dal vostro sito scaricherà 300 mega di traffico. Però ovviamente avere dei limiti su banda e traffico possono magari portarvi dei problemi di accessibilità al sito qualora dovessero esserci più richieste contemporanee. Quindi rischiereste che il vostro sito sia più lento e i contenuti non siano accessibili a tutti i visitatori che contemporaneamente scaricano i dati dal vostro sito. Quindi lo spazio disco tenete in considerazione quello che realmente avete bisogno qual è realmente la vostra esigenza di spazio disco e bande e traffico invece tenete in considerazione il fatto che possano essere di valutare maggiormente le offerte che vi offrono bande e traffico illimitate. Piuttosto potete considerare ovviamente lo spazio dedicato alle vostre mail perché sicuramente le vostre mail, le vostre caselle mail e la vostra quantità di mail potrebbero crescere nel tempo e quindi quello potrebbe essere un altro dato di spazio da tenere ovviamente in considerazione. Mentre qualcosa che sicuramente non deve mancare nel vostro hosting specifico per WordPress è la sicurezza così come per tutte le tipologie di hosting, il vostro sito deve essere al sicuro quindi c'è bisogno che ci sia prevenzione per quanto riguarda tutto ciò che sono gli attacchi esterni quindi tutti i tentativi di accedere al vostro sito per creare dei danni o comunque per cancellare dei dati e c'è sicuramente bisogno di assistenza qualora questi attacchi non potessero essere prevenuti quindi non si potesse prevenire un attacco e il vostro sito possa essere hackerato c'è bisogno comunque che vi venga offerta assistenza quindi il backup il più aggiornato possibile e sicuramente assistenza nel restaurare questo backup quindi ripristinare tutti i dati del vostro sito. Quindi prendete in considerazione tutte le offerte di hosting che vi offrono questo tipo di servizio che è quindi la formula vincente ovviamente prevenzione e assistenza. La prevenzione ovviamente viene data anche dall'attenzione che l'hosting service provider ha per gli aggiornamenti quindi un hosting service provider che vi offre sempre una versione preinstallata di Wordpress sempre il più aggiornata possibile che abbia la versione PHP sempre aggiornata e che esegua proprio degli aggiornamenti costantemente nel tempo sicuramente questo vi garantisce un livello di sicurezza maggiore sia da un punto di vista di prevenzione quindi proprio per la prevenzione degli attacchi hacker e sia da un punto di vista di assistenza perché ovviamente avendo sempre il sistema aggiornato avete la possibilità di risalire all'ultima versione dei vostri dati e quindi di non perdere quello che per voi ovviamente è il lavoro quello che per voi è il business e quello che per voi magari è il sito del vostro cliente quindi sicuramente la sicurezza è il primo fattore da tenere in considerazione. Inoltre per quanto riguarda la sicurezza invece della navigazione del vostro sito potete anche tenere in considerazione le offerte che vi offrono dei certificati SSL già inclusi nel vostro piano di hosting. I certificati SSL stanno diventando sempre più un must quindi bisogna il protocollo HTTPS è quasi diventato un must have quindi tutti i siti vengono indicizzati meglio se hanno questo tipo di protocollo e quindi avere un certificato SSL a disposizione già nel pacchetto del proprio hosting sicuramente garantisce un livello di sicurezza maggiore per gli utenti che navigano il vostro sito soprattutto magari se si tratta di e-commerce e quindi avete un sistema di pagamenti anche i pagamenti sicuri tutto ciò che dà sicurezza all'utente che visita il vostro sito ovviamente migliora anche l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Parlando di offerte commerciali ovviamente potete sicuramente tenere in considerazione il fatto che voi magari oggi iniziate con un piccolo sito vetrina con un piccolo blog e improvvisamente il vostro piccolo blog e il vostro piccolo sito vetrina diventa un grosso progetto web. Ovviamente potreste avere delle esigenze iniziali di spazio, di banda, di prestazioni molto basso perché la vostra esigenza iniziale è quella di raggiungere magari un numero limitato di visitatori al giorno ma se il vostro progetto cresce quindi il vostro sito ha bisogno di più risorse ha bisogno di più spazio ha bisogno di una banda più veloce il traffico dati aumenta ovviamente dovete tenere in considerazione che sicuramente deve essere facile passare da un piano ad un altro questo perché non vi potete permettere che il vostro sito non sia raggiungibile che sia lento e che causi dei problemi alle persone che lo visitano perché è il vostro lavoro, è il vostro progetto quindi se il vostro progetto web cresce il vostro hosting deve crescere con lui e questo ovviamente deve essere fatto in maniera flessibile quindi non ci devono essere rigidità tra magari un piano commerciale ed un altro deve essere ovviamente una cosa fatta quasi in automatico vi riporto un caso reale che ovviamente è successo a noi ma giusto per spiegarvi che cosa vuol dire passare da un'ora all'altra ad avere bisogno di più risorse non so quanti di voi hanno seguito l'edizione di quest'anno di Sanremo e quanti di voi magari non sapevano o comunque non avevano mai sentito parlare dell'artista torinese Ezio Bosso e ora vi spiego lui inizialmente lo conoscevano in pochi solo gli addetti ai lavori quasi e questo praticamente gli dava l'esigenza di avere un sito su il piano commerciale più piccolo perché aveva pochi visitatori al giorno perché le richieste del suo sito erano poche e quindi questo bastava per rispondere alle sue esigenze in quel momento durante la sua esibizione al Festival di Sanremo ovviamente tutte le persone incuriosite da questo personaggio sono andate a cercare informazioni su internet per scoprire chi era questo artista e il suo sito ovviamente ha iniziato a ricevere una quantità di richieste contemporanee molto elevata e questo poteva causare dei problemi proprio nella visualizzazione il sito avrebbe potuto essere down o non raggiungibile perché troppe persone facevano richieste per visitare il sito e di conseguenza il traffico ha aumentato molto in quella stessa sera abbiamo scoperto questo picco di visite proprio a causa di questo evento particolare il nostro sistema automatico ha permesso quasi di aprire i rubinetti diciamo delle risorse per fare in modo che il suo sito avesse sempre a disposizione le risorse necessarie per quel momento questo è quello che noi identifichiamo come flessibilità quindi il passaggio da una risorsa più piccola ad una risorsa più grande nel momento in cui ne avete bisogno quindi tenete in considerazione anche il fatto che il vostro sito potrebbe ricevere delle visite o dei picchi di visita in momenti magari legati a particolari eventi quindi la possibilità di avere un servizio che vi dà sempre le risorse di cui avete bisogno in quel preciso momento può essere ovviamente un valore aggiunto al vostro hosting perché il vostro sito sarà sempre accessibile qualsiasi sia il numero di visite che arrivano in un determinato momento ok adesso passiamo invece a quello che secondo me e li ho elencati appunto per ultimi perché volevo dare un po' di evidenza a queste caratteristiche che sono le famose ciliegine sulla torta quelle cose in più che danno un valore aggiunto e per cui vale la pena magari avere un prezzo di un hosting più elevato ma avere delle caratteristiche che effettivamente fanno di quel prezzo il valore reale del vostro hosting la possibilità di testare il vostro hosting ma il vostro hosting così come sarà poi quello definitivo quindi non un prodotto gratuito che poi in realtà quando andate a comprare ha delle caratteristiche completamente diverse ma la possibilità di testare gratuitamente per un periodo di tempo abbastanza lungo da permettervi di sviluppare un sito di far vedere magari ad un cliente un sito o un progetto che state sviluppando per poi metterlo direttamente online e soprattutto la possibilità non solo di testare l'hosting quindi il prodotto ma di testare l'azienda alla quale state affidando il vostro sito quindi se durante un periodo di prova gratuito c'è anche la possibilità di testare l'assistenza quindi di aprire dei ticket di parlare telefonicamente con l'assistenza ovviamente questo vi dà anche la possibilità di dire sto testando l'azienda a cui affido il mio progetto web a 360 gradi senza però avere il vincolo di aver comprato un prodotto e quindi magari doverlo tenere per un anno quindi se avete la possibilità di testare il vostro prodotto ovviamente voi avete un test che è reale al 100% perché state testando quello che sarà poi il vostro prodotto vero e proprio alla fine del vostro periodo di prova infatti quello che volevo sottolineare partendo appunto dalla parte di test è che sicuramente un valore aggiunto di un prodotto oltre a tutte le caratteristiche che vi ho appena elencato è quello di un'assistenza avere assistenza tecnica e commerciale a disposizione per qualunque tipo di problema quindi dalle configurazioni all'accessibilità del vostro sito problemi con le mail piuttosto che una consulenza proprio su che tipo di piano corrisponde alla vostra esigenza attuale quindi la possibilità di avere a disposizione un servizio clienti è sicuramente un servizio clienti reale quindi delle persone che rispondono al telefono rispondono alla chat e rispondono alle mail è sicuramente un valore aggiunto di un buon prodotto di hosting quindi tenete sempre in considerazione che tipo di assistenza vi offre il vostro hosting service provider e qui adesso c'è una domanda che è un po' diciamo per il taglio che ha questo evento quindi si tratta di un evento ovviamente internazionale quindi rispondere a questa domanda se è meglio un'azienda italiana o un'azienda estera in realtà è una risposta che potete darvi solo voi pensando a qual è il vostro target di riferimento quindi lavorate in Italia siete magari madrelingua italiana i vostri clienti sono tutti italiani sapete che il vostro sito riceve visite solo dall'Italia probabilmente avere a che fare con un'azienda di hosting 100% italiana è sicuramente un valore aggiunto e un vantaggio in più per voi perché risolvere dei problemi con un'assistenza che parla la vostra stessa lingua problemi di latenza sui server se si trovano in Italia e voi avete il vostro sito che viene visitato dall'Italia ovviamente sono tutti dei vantaggi in più qualora invece il vostro sito sia più di stampo internazionale ovviamente avete visitatori che arrivano da tutto il mondo ovviamente è un tipo di scelta che potete fare magari sulla base etica di avere un'azienda italiana piuttosto che estera o viceversa però tenete in considerazione che se lavorate con un sito che viene visitato praticamente solo ed esclusivamente sul territorio nazionale italiano ovviamente avere anche un hosting che si trova in Italia che ha i propri server in Italia può portarvi dei vantaggi in più però è un'analisi che potete fare voi pensando appunto al tipo di siti che andrete a creare e qual è ovviamente il pubblico di destinazione del vostro sito e quelli che sono invece concludo la mia presentazione facendovi un elenco di quelli che sono invece secondo me appunto quelli che vi dicevo all'inizio nella scaletta della presentazione quei valori aggiunti che dovreste cercare non solo nel prodotto di hosting ma anche nell'azienda che vi offre il prodotto di hosting ve li ho riassunti in questa slide quindi il vostro hosting deve essere facile da usare voi non dovreste avere problemi di accesso al pannello di controllo configurazione, passaggio da un piano all'altro deve essere una cosa semplice perché se diventa troppo complicato dall'acquistare all'upgradare a mandare un ticket di assistenza ovviamente per voi significa perdita di tempo che potreste dedicare invece allo sviluppo del vostro sito web quindi la semplicità è sicuramente un valore da ricercare nel vostro prodotto di hosting e anche nell'azienda che vi offre questo servizio la sicurezza ne abbiamo ampiamente parlato prima quindi ovviamente deve essere garantita assolutamente la sicurezza e l'assistenza qualora doveste avere dei problemi di sicurezza e poi quello che secondo noi anche a livello aziendale è un po' il cuore pulsante di un buon servizio di hosting ovvero l'assistenza perché potrebbero esserci sempre dei problemi che magari voi non avete le competenze di gestire e quindi è utile che ci sia un'assistenza a supporto che vi aiuti in tutta la parte tecnica e anche ovviamente commerciale io ho finito e vi ringrazio grazie mille io adesso vabbè vi ringrazio e lascio ovviamente lo spazio se ci sono domande a me piace un hosting italiano perché quando mi incazzo mi incazzo nella mia lingua e posso urlare così è più facile mi piace meno un hosting italiano che dice che si rivolge solo all'Italia oggi quello che cresce è l'export io ho esigenze di vendere i miei prodotti all'estero se mi dici che l'hosting italiano è ottimizzato solo per l'Italia mi chiedo come mai un'azienda che è italiana non serva anche i clienti italiani il mio non era un ti faccio la domanda però nei vostri servizi come sono le performance in Cina per l'utente cinese perché io vendo praticamente tantissimo in Cina e quindi ho bisogno di avere performance adeguate ok allora innanzitutto faccio la premessa nel senso il mio non era ovviamente un nella slide non volevo dire che è ottimizzato solo per l'Italia era semplicemente da tenere in considerazione che se ci si rivolge ovviamente ad un mercato italiano avere a che fare con un hosting service provider italiano può avere ovviamente dei vantaggi perché per tutti i motivi che ho elencato prima per quanto riguarda le performance dei nostri servizi in Cina non so se posso chiedere l'aiuto da casa nel senso ripeto appunto non essendo un tecnico non ti so dare dei numeri o dei grafici di performance noi abbiamo comunque lo stand qua fuori quindi per tutta la parte quella proprio di tecnica di performance di servizi ti invito magari a chiederci le cose in modo che anche i miei colleghi un po' più tecnici ti possano dare una risposta più precisa e accurata volevo appunto solo sottolineare quello che dicevo prima per quanto riguarda che non è ottimizzato proprio cioè solo per essere funzionale sul territorio italiano era un po' il discorso contrario quindi se uno si rivolge al mercato italiano può essere utile rivolgersi a un'azienda italiana sì sì no no beh nel senso per la parte un po' più tecnica appunto ti invito se hai voglia di passare dallo stand a chiedere informazioni un po' più tecniche ai miei colleghi ti ringrazio ok prossima domanda grazie 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 grazie